E' vero, manca pochissimo al Natale, e nel Vangelo di oggi contempliamo la gioia che nasce dall'aprire il cuore a Gesù e alla Sua parola. Eh sì, quest'anno siamo proprio al 23, quindi l'antivigilia del Natale, quindi già domani sera faremo la viglia natalizia e quindi poi festeggeremo il Natale. Quindi dopo il Battista, dopo i profeti, noi abbiamo ora come protagonista in questa domenica potremmo dire la donna che potremmo chiamare il Magnifica, la donna che magnifica continuamente Dio, l'anima mia magnifica il Signore. Maria di Natale è una donna fedele, obbediente al progetto di Dio, ed è il modello che la Chiesa ogni anno, insieme ai profeti, insieme al suo sposo Giuseppe, insieme al Battista, nel cammino di avvento ci viene indicata come la persona che ha fatto della parola l'ambiente in cui lei ha vissuto. Potremmo dire che il Vangelo di oggi, che è conosciuto proprio come l'esperienza più bella del Magnifica, è tutta la scena è dominata da questo sì che Maria ha detto all'annuncio dell'Angelo. Sì, io desidero che avvenga di me quello che tu hai detto. Potremmo dire che la vocazione di Maria, pienamente corrisposta, diventa un cammino di fede e di servizio, perché questo mistero che noi in Occidente chiamiamo il mistero della visitazione, infatti noi diciamo nel secondo mistero gaudioso, contempliamo la visitazione di Maria Giuseppe. In realtà in Oriente questo mistero viene definito a spasmosso, cioè il saluto. Luca narra che dopo che Gabriele si è allontanato, cae Anastasa de Maria, Maria risorta, alzatasi, si mette in cammino verso la cugina Elisabetta. Il testo non lo porta, ma si capisce che lei va a casa di Zaccaria e Elisabetta. E' l'angelo stesso che ha rivelato a Maria la concezione del Giovanni Battista. Ecco perché Luca mette questo verbo così importante all'inizio, alzatasi. Maria si incamminò con sollecitudine verso la Giudea. C'è questa sorta di conferma che Maria avrà in questa visita che fa dalla cugina. Infatti appena la saluta, appena Maria arriva, il piccolo Giovanni, che è nel grembo della madre, sussultò. Il testo è molto forte, schirtao, lo vedremo fra poco. Ed Elisabetta è ripiena di Spirito Santo. E' molto bello vedere che nel terzo Vangelo, quello di Luca, i personaggi sono sempre pieni di Spirito Santo. Ecco, Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo, perché nel grembo di Maria c'è colui che è l'immacolato della storia. Ed Elisabetta, in un certo senso, completa sotto l'azione dello Spirito Santo quella che è la bellezza di questa meravigliosa creatura che è Maria. L'angelo le ha portato tre parole, rallegrati, trasformata dalla grazia, il Signore è con te. Ed Elisabetta sotto l'effetto dello Spirito dà quattro parole che completano in un certo senso il quadro che viene da Dio. Tu sei la madre del mio Signore, tu sei la benedetta tra tutte le donne, tu sei la beata, tu sei la credente. Quattro parole che completano davvero il quadro. Tre da parte di Gabriele, quattro che vengono da Elisabetta, ma sempre sotto l'azione dello Spirito Santo, siamo a sette. Sette è la perfezione. E del piccolo Giovanni si afferma che danzò nel grembo maderno, sussultò di gioia nel grembo. Potremmo definirla quasi una danza, è un segno di gioia, quel movimento naturale che i bambini in genere fanno nella pancia materna. Ma qui Luca vuole sottolinearci che il Battista, colui che sarà la voce, il precursore, in realtà avverte la presenza del figlio di Dio, la presenza del Messia nella pancia di Maria. Prova che tutto questo, due donne a confronto, tutte e due incinte. Però Giovanni è già al sesto mese, Maria ha appena ricevuto l'annuncio. Dietro a questo racconto c'è veramente uno scenario di episodi antichi delle scritture. Ricordiamo ad esempio l'episodio di Davide, che insieme agli anziani di Israele e insieme ai capi, trasportò la famosa arca dell'alleanza dalla casa di Obed-ed-Om a Gerusalemme. E in quell'occasione il re Davide danzò rivestito soltanto delle mutande sacre, quindi quasi nudo. Saltò in onore del Signore, anzi la moglie Michal lo criticò per questo. Lui disse, ma io l'ho fatto per il Signore. Quindi Davide che danza davanti all'arca che rappresenta Dio. Qui abbiamo Giovanni il Battista che danza davanti alla presenza del cugino che è il figlio di Dio. C'è tutto un clima di gioia in questo secondo mistero gaudioso. L'incontro tra queste due donne, Elisabetta di stirpe sacerdotale, avanti negli anni, che riceve il dono di avere il figlio che diventerà l'ultimo dei profeti e il più grande, come lo definirà Gesù. E dall'altra parte una piccola vergine di Israele, Maria, la quale resta tre mesi poi nella casa della cugina. Esattamente come l'arca dell'alleanza resta tre mesi nella casa di Obed e Dom. Quindi guardate quante caratteristiche che si confrontano e si richiamano nei testi biblici. E le parole di Elisabetta richiamano anche quelle del capitolo 13 del libro di Giuditta, al versetto 18, le parole che Ozia dice a Giuditta. E in seconda Samuele noi abbiamo al capitolo 6 la danza di Davide, cinto delle fodde di Lino, ma le fodde erano anche abito sacerdotale. Quindi l'azione che fa il re Davide è da una parte regale, lui è il re, d'altra parte anche sacra. Egli è quasi nudo, quindi è una sorta di rapporto originario, come erano nudi i nostri progenitori nel giardino del paradiso. Ora che cosa vuole dire qui Luca, che scrive in un modo meraviglioso? Vuole dire che in questo episodio importantissimo, Giovanni saltè la danza, il verbo greco è proprio schirtao, questo saltare gioioso, perché lui sarà il novello Elia, lui avanzerà davanti al Messia, lui sarà la voce che profetizza la parola che è Gesù Cristo. E le parole di Elisabetta definiscono quanto Dio abbia fatto per la Vergine Maria. E qui Maria viene rappresentata proprio come modello di fede nella Divina Promessa. È la donna che ha donato tutto il suo desiderio di compiere il progetto che viene dall'alto. E il Magnificat, che è veramente un intarsio, un mosaico di espressioni che vengono dai testi dell'Antico Testamento. Immaginate un intarsio di legno meraviglioso. Il Magnificat ha le espressioni più belle della scrittura. Descrive il canto dei poveri, quei poveri che si sono fidati dell'azione di Dio. Dio ha fatto grandi cose in Maria. Questo inno meraviglioso che ricorda tutto quello che Dio ha sempre fatto per Israele. Dicevamo nelle domeniche precedenti, il testo di Isaia 30-18, il Signore è in attesa di farvi grazia. È Dio innanzitutto che attende. E questa grazia dove viene? Attraverso il ventre di Maria. La Vergine nel Cantico del Magnificat si presenta per un verso come solidale con i poveri. E ci richiama una realtà importante. Tutto ciò che è operato in lei viene dall'alto. È il Signore, quel Dio potente, quel Dio che è santo, quel Dio che rovescia i presuntuosi, colui che esalta i poveri e abbassa i potenti, quel Dio che capovolge ogni situazione di ingiustizia. Poi Gesù, fatto grande, ce lo ricorderà in quelle otto beatitudini dove ci insegnerà ad avanzare, ad andare avanti. Andate avanti nella ricerca di senso della vita, perché il Vangelo, che è Gesù stesso, è per noi davvero notevolmente un annuncio di salvezza per tutti quanti noi. Ed è interessante notare che le parole di Maria, nel testo greco, sono tutte al passato. Quasi per dire che Dio, appena ha detto, l'ha già fatto. Dio ha già compiuto ogni cosa. Perché, come dicevamo nel racconto dell'Annunciazione, il giorno della Immacolata, nessuna parola è impossibile a Dio. Allora oggi, all'antivigilia del Natale, noi dobbiamo esultare in Dio. Perché? Perché il bambino che nasce, diceva Alfonso Maria di Liguori, è un bambino che nasce per morire. Nasce cioè per venire a vivere il mistero pasquale. È la Pasqua che davvero il Signore ci viene a dare. Ecco perché il Natale è la prima luce di quella luce meravigliosa che poi sarà Pasqua. E allora, davvero, queste poche ore che ci separano dal Signore siano vissute nella serenità, nel Magnificat più assoluto e che ognuno di noi faccia proprio le parole del Signore. Guardi nella propria vita quanto il Signore ha fatto. Lui ha sempre operato e continua a operare nella vita di coloro che si affidano con fiducia alla sua grazia. E come Maria, una donna gioiosa, piena di vita, che ha nel cuore Gesù anche noi, e lei che va, che esce, che si mette in cammino, anche noi dovremmo fare così. Non aspettare che gli altri ci vengano incontro, ma avviarci, andare verso gli altri. Molto giusto la tua affermazione, perché in realtà il nostro Dio, il Dio biblico, è un Dio che ci invita ad andare. Anche il Risorto dirà al capitolo 28 di Matteo, andando, poré uontes, fate in modo che la gente impari da me. La Chiesa è sempre in cammino. È un po' come un esodo continuo, dalla morte alla vita, dalla pigrizia alla creatività, perché siamo in cammino e quel cammino, quella via, è Cristo stesso. Lui ci accompagna e non ci lascia mai sole. Con questa tua affermazione ci lasciamo, ovviamente pieni di speranza, e tra pochi giorni, tra due giorni, ci ritroviamo in conversazioni bibliche. Grazie Padre Ernesto, buona vigilia di Natale. Grazie a voi, buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom. Shalom.